Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, 7.06 e 30 secondi, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano, buona giornata a tutti coloro che ci stanno ascoltando e anche vedendo, ricordiamo che siamo anche in diretta video su Milano All News e poi potrete anche riascoltarci e rivederci anche, perché attenzione non siamo solo un podcast, siamo un vocast, un video podcast, e sì perché siamo anche su Spotify, anche in versione video, quindi potete anche rivederci in versione video su Spotify, ascoltarci su Apple Music, insomma buongiorno e benvenuti, oggi è mercoledì 24 gennaio 2024, un'altra giornata che passeremo insieme, giornata collinetta, quella del mercoledì che divide la nostra settimana per poi andare verso così in discesa, verso il giovedì e il venerdì, ma con tanti ospiti anche come sempre durante la nostra settimana. Voi cosa state facendo? Dove state andando? Con chi siete? Cosa fate oggi? Progetti per la giornata? Quali sono? Dai 3317853555, il nostro numero di Whatsapp, potete scriverci, io ce l'ho qui davanti e poi vi leggo in diretta i vostri saluti, i vostri messaggi, appunto diteci anche cosa combinate quest'oggi, questo mercoledì 24 gennaio, che programmi avete? Che cosa farete oggi per portare avanti la vostra giornata? Lavoro, studio, relax, che cosa? Dai ditecelo, 3317853555. Il Whatsapp di Alberto, buongiorno Cristallini, buongiorno Fabio, oggi giornata difficile al di là dello sciopero del trasporto pubblico, per fortuna ci siete voi a tenerci compagnia, e bene sì perché oggi è il giornata dello sciopero, eh sì, 24 gennaio, mercoledì 24 gennaio, sindacati USB, Lavoro Privato e Alcobas hanno proclamato lo sciopero del trasporto pubblico. Le linee ATM potrebbero subire ritardi, ovvero comunque conseguenze, dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Quindi a proposito, alle 8.45, 8.46, vi daremo in diretta l'aggiornamento su cosa sta succedendo e su chi e cosa funziona o non funziona. Nelle linee metropolitane di Milano, linee di superficie, insomma, faremo un aggiornamento proprio in diretta con ATM alle 8.45, 8.47, tempo di fargli capire anche loro e fare la conta, no? Deve uno fare la conta a chi c'è? Luigi, oggi lavori? No, ok, Luigi, quel altro? Maria? Maria no, Maria no. La Sandra, la Sandra? Ah, la Sandra lavora? Ok, perfetto, così, le fanno così. E quindi poi ci dicono a noi chi e cosa sta funzionando. Sciopero che ha varie motivazioni, anche abbastanza serie. E la cosa bella è che ATM finalmente sul sito internet dà un po' di sciopero a questa parte, mette anche le motivazioni. In questo caso anche le motivazioni splittate, nel senso che USB Lavoro ha la sua dichiarazione e Alcobas la sua. E vengono richiamate, vengono riscritte. Ad esempio, per USB Lavoro Privato, lo sciopero è stato proclamato per il libero esercizio diritto di sciopero, per il superamento dei salari di ingresso, contro gli appalti e i subappalti, per la sicurezza sul lavoro e del servizio, per il salario minimo, per una legge sulla rappresentanza, per il blocco delle spese militari. Quindi lo stesso sindacato poi protesta anche per la mancata convocazione della medesima sigla sindacale alle trattative per il rinnovo del CCNL del settore. Quindi non sono stati chiamati quelli allo USB Lavoro e quindi si sono un po' arrabbiati. Alcobas invece dice che è stato proclamato questo sciopero contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e abolizione di accordi sulla rappresentanza. Quindi si lamentano di non poter scioperare mentre lo fanno. Scusate, superando il monopolio costituito sulla complicità delle OS, le associazioni dattoriali, per il superamento dei salari di ingresso minimo, quindi 1600 euro netti mensili, credo sia questa la richiesta, contro gli appalti e i subappalti, per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità, per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro, per il blocco delle spese militari e contro le grandi opere speculative. Insomma c'è un po' di tutto. Diciamo che forse ATM lo fa anche perché insomma di così non è che voglio dire ok sono con voi a scioperare. Una, una battaglia, una sola, ma fatta bene. No, non potrevate. No, un analista che... Chiunque è d'accordo ovviamente su queste cose, però, magari bisogna trovare un'altra formula. E ripeto che nessuno vuole limitare il vostro diritto di sciopero, ma forse dovremmo trovare un'altra modalità di sciopero. Scioperiamo tutti, anche noi cittadini. C'è qualcosa che non va bene? Quindi scendiamo a fianco dei lavoratori del trasporto pubblico, ad esempio. Comunque 8.45, 15 e dopo le 18. Se invece siete a Como, attenzione, vi ricordo sempre che la Como Brunate, la funicolare, è gestita sempre da TM e fa sciopero anche lei, però lo fa con un orario più ampio. 8.30, 16.30 e poi dopo le 19.30. Quindi, insomma, c'erano cose... Se siete da quelle parti lì, attenzione a prendere la funicolare. Se invece siete a Milano, attenzione al traffico. E infatti adesso luce verde che ci dice che cosa succede in questo momento sulla città di Milano. E si, il 24 gennaio del 1984 veniva presentato al mondo il Macintosh e lo spot, pensate, a firma di Ridley Scott, non uno qualsiasi, lo spot a firma di Ridley Scott diceva il 24 gennaio verrà introdotto il Macintosh e capirete perché il 1984 non sarà come 1984. Ebbene sì, 40 anni fa appunto veniva presentato la macchina che poi ha rivoluzionato tutto quello che abbiamo in questo momento anche nelle nostre mani, come ad esempio l'iPhone. Ma, 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 oggi, oggi, il 24 gennaio, sono anche nate importanti persone. Noi che parliamo di musica, ovviamente, Neil Diamond, Neil Diamond, scusate, 83 anni c'ha Neil Diamond, pensate, nel 41. È nato a Brooklyn, una delle voci più amate dalla vecchia guardia, comunque appunto grande scena negli anni 70 e 80. Ma altro cantante invece più vicino a noi, nel 1979, nasceva Giuliano San Giorgi, quello di Negramaro. Il cantante Negramaro, eh sì, 45 anni oggi, quindi auguri a Giuliano San Giorgi. Se invece non è la musica che voi amate, ma non sapete, non potrei capire come potete non amare la musica, ma siete invece dei divoratori seriali di televisione, oggi Michel Unziker. Ebbene sì, 47 anni fa nasceva Michel Unziker, tanti auguri anche a Michel Unziker, che appunto oggi festeggia. 47 anni. Ricordiamo, nata a Sorengo, nel canton Ticino, quindi Svizzera italiana, ma appunto di mamma lingua tedesca. E quindi comunque, insomma, sappiamo che ha lavorato sia nella tv svizzera, nella tv italiana, ma anche in quella tedesca. Quest'oggi invece anche illustri scomparsi, quest'oggi, perché nel 2003 moriva Gianni Agnelli. Eh sì, l'avvocato, l'avvocato Gianni Agnelli, moriva 21 anni fa, nel 2003. Qualche anno prima, invece, ci lasciava nel 1965 Winston Churchill. Stesso giorno, appunto, di Gianni Agnelli. Ebbene, insomma, Gianni Agnelli è uno che ha sempre fatto le cose fatte bene, come dire. Anche il giorno della morte, scegliere lo stesso giorno di Winston Churchill non è male. Secondo me poteva essere quasi voluta, conoscendo il personaggio, conoscendo l'avvocato. Anche un grande artista, invece, ci lasciava ben 104 anni fa, nel 1920. Moriva Amedeo Modigliani. Insomma, grandissimo artista che molti e tutti quanti conosciamo. Questo è l'almanacco di oggi, questo è quello che è successo oggi, ma io voglio sapere quello che succederà tra oggi, domani e nei prossimi giorni. Grazie a voi. 331-78-53-555. Il nostro numero di WhatsApp, ve lo ripeterò sempre, in modo che vi entri in testa, vi entri nella rubrica, ma soprattutto così che lo possa anche io imparare a memoria. Perché pensate, siamo ormai a 81-82 puntate all'inizio della stagione a settembre e non ho ancora imparato a memoria il numero di WhatsApp. Lo devo sempre buttargli almeno l'occhio, un attimino. È 331-78-53-555. Questo è il nostro numero di WhatsApp. Mi raccomando, scriveteci, fateci sapere cosa state facendo, e fateci sapere quali sono i programmi di giornata. I nostri sono quelli di stare qui con voi fino alle 9 a farvi tanta tanta compagnia. A fra poco. Gaia con Tokyo. Ben ritrovati, bentornati a Good Morning Milano. Grazie mille anche ad Adriana, che al 331-78-53-555 ci manda una bellissima foto di Alba Subaggio. Bellissima. Sono queste le foto che fanno e danno la svolta a Good Morning Milano, ve lo dico. Se voi mi mandate le albe sui vostri quartieri, fate un uomo felice. Ah, se mi fate felice. Alba da Baggio. Cioè, scusate, Alba Subaggio. Perché Alba da Baggio? Sembra che c'ha scritto una, no? Che si chiama Alba da Baggio. Invece no. C'ha scritto Adriana con una foto dell'Alba Subaggio. Ah, attraverso adesso si è spostata, ed è più Alba su Incrocio con Bisceglie, più o meno. Siamo lì, siamo lì. Mi raccomando, no, era ferma, ok. Mi raccomando, non fatele foto mentre andate in macchina. Se vi fermate, va bene, no, questa era ferma. Era ferma al ciglio della strada. Stava tirando su qualche collega, molto probabilmente. Comunque, grazie a tutti davvero per i messaggi che ci mandate al 331-78-53-555. Allora, dello sciopero abbiamo parlato. C'è qualche aggiornamento anche su, come si chiama, Planet Farm, l'azienda che ha preso fuoco ieri. Sapete, vi ricordate, no, quello che è successo. Per fortuna niente di grave. Adesso si stanno facendo tutti i vari rilievi del caso, come appunto si dice in questi casi, appunto. Sta di fatto che i rilievi, al punto, sono ancora in corso, ma la fase acuta dell'emergenza sembra essere passata. Ormai, due giorni, praticamente più di 24 ore fa, era successo l'incendio, perché nella mattinata, nel giorno del 22 gennaio, quindi al 24, quindi più di 24 ore, aveva preso appunto fuoco la Planet Farm, la più grande Vertical Farm d'Europa. Vertical Farm, pensate, si chiamano, sono fattorie verticali, perché, mi ricordate, mi dicevo, si fanno le culture idroponiche, credo si chiami così, cioè vengono messe su degli scaffali e goccia a goccia si va a far crescere le varie semenze, semenze si dice, giusto, le varie semenze che poi diventano verdure, insalate soprattutto, insalate in busta, a chilometro zero abbiamo detto tutti. Comunque, è Erco, ancora perché per fortuna non è nata tutta a fuoco, è la più grande Vertical Farm d'Europa, specializzata nella produzione di frutta e verdura. non è più necessaria alcuna precauzione per via delle sostanze inquinanti, lo fa sapere il Comune, dopo che ieri aveva consigliato di tenere chiuse le finestre e utilizzare le mascherine all'aperto, da oggi invece tranquilli, si può girare senza problemi a Cavenago di Brianza, ma anche Cavenago, Brianza e Nimitrofi, quindi tutta quella zona lì è salubre, non ci sono più pericoli nell'aria e non ci sono più sostanze tossiche che sono fuoriuscite appunto dall'azienda, perché sappiamo, ricordiamo, è andata a fuoco una parte di magazzino in cui c'erano delle materie plastiche e insomma sappiamo bene che non è mai il massimo quando prende fuoco della plastica, no, non è mai, no, 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 non è mai, non è mai, non è mai, non è mai, non è mai. Comunque, andiamo avanti con la musica invece, perché adesso è il momento di Tracy Chapman, così, adesso andate a prenderla nel nostro archivio musicale, perché insomma sono questioni che bisogna sempre capire, no? No, lei diceva, parliamo della rivoluzione, così, no? Diceva, talking about a revolution, Tracy Chapman. Foo Fighters con The Glass, 7 e 52 minuti, stiamo per andare in pausa a sentirci anche il nostro bel radio giornale, il giornale radio, ma prima una notizia che non possiamo non dare, è morto ieri a 39 anni, mamma Duguie, chi era? Era una figura importantissima di Palazzo Marino, sì, della sede del Consiglio Comunale, perché era colui che spesso e volentieri ci accoglieva all'ingresso con un sorriso e ci dava tutte le indicazioni che servivano. Lavorava poi, ormai dal 2020, lavorava appunto all'interno, no, scusate, 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 ma ormai da tanti anni, dal 2016, scusate, all'interno appunto di Palazzo Marino, dal 2020 aveva scoperto invece di avere un grave tumore alla guancia che negli ultimi mesi appunto l'aveva costretto a lasciare la mansione che affrontava tutti i giorni, con un grandissimo sorriso. Ne dà notizia il Repubblica Milano, ma anche il Corriere, ma soprattutto anche delle note da Palazzo Marino, tra cui anche un era facile volerti bene, così il sindaco Sala appunto saluta Mamadù. Tra parentesi, lui aveva lavorato anche per Expo, lì forse che si era conosciuto con il sindaco, non so, aveva lavorato anche per Expo, aveva hissato la bandiera del Senegal durante la giornata della festa nazionale del Senegal e aveva portato il tricolore durante la manifestazione di apertura dell'Expo. Era uno dei volti più conosciuti all'interno di Palazzo Marino, l'ultimo suo desiderio è stato quello di tornare in Senegal per poter salutare la famiglia e proprio dal Senegal è arrivata la notizia ieri della sua scomparsa a soli 39 anni. Grazie Mamadù per il tuo lavoro e grazie per quello che hai fatto in Consiglio Comunale, per quello che hai fatto per la nostra città e spero che Milano te ne sia sempre grata. Abbiamo parlato appunto del modello 30 della nostra città, Milano città 30 che sembra essere un modello complicato, il modello del traffico, la modalità di gestione della viabilità è sempre molto complicata. Ricordiamo che alle 8.45 inizierà lo sciopero dei mezzi, in questo istante ATM non dà, controlliamo se dà qualche nuova dichiarazione, ma per il momento niente, ovviamente lo sapete, 8.45, 15 e dopo dalle 18 fino a fine servizio sono le due fasce in cui dovrebbe esserci lo sciopero, quindi mi raccomando state all'occhio come ve l'ho già detto, con tutto quello che sono le varie indicazioni che potrete trovare meglio avere, capire, insomma, tutto questo sempre qui su Cristian Radio, con il mondo di Milano, noi vi raccontiamo un po' tutto quello che succede e vi daremo anche appunto gli aggiornamenti in tempo reale su quello che sono le situazioni, su quello che sarà la situazione dello sciopero di questa mattina. Fu usato proprio Vincent Price come voce di questo finale, no? Che era un attore, un attore di Hollywood che aveva fatto tanti film, tra cui La Passione che uccide, La Maschera di Cera, ed era, pensate, pensate che è il caso, no? Era l'amica della moglie di Quincy Jones, perché Quincy Jones è il produttore e arrangiatore di questa canzone, pensate. Voi, se non sapete chi è Quincy Jones, andate a cercarlo perché è uno dei più grandi produttori di musica della nostra storia e appunto ha prodotto questo album. Pensate che in thriller, comunque, cioè l'album thriller ha al suo interno dei brani che sono passati alla storia perché ha dentro Billie Jean beat it, cioè niente di che, cioè tre hit che hanno spopolato nel mondo sono presi dallo stesso album, nel senso, poi vabbè c'è The Girl is Mine e altre, però pensate, Beat It, Thriller e Billie Jean nello stesso identico album. Non so quanti album ancora oggi possono vantarsi di avere tre hit del genere inseriti al proprio interno. Comunque, vabbè, 1982, ormai sono passati ben 42 anni dall'uscita di questo fantastico capolavoro che è rimasto per anni il disco più venduto al mondo, la canzone più ascoltata e scaricata da tutti i vari store, ma adesso è un po' passata, però pensate cosa non è stato. Se andate a cercare notizie su thriller, ad esempio c'è la lista dei dischi di platino vinti da praticamente in ogni country, in ogni nazione esistente al mondo, lui si è portato a casa a un disco di platino o di diamante, quindi insomma pensate voi che cosa è stata questa canzone, che è una canzone che davvero, davvero è grande. Se parliamo di grande musica, però non si può parlare anche di un'altra donna, una donna che è lei che arriva da quel mondo lì, sicuramente c'era Quincy Jones dietro le quinte anche qui, perché non ne sono sicuro, ma sicuramente girava da quelle parti, sto parlando di Donna Summer, una hot stuff che l'ha portata al successo negli anni, nel 1979, ma poi anche negli anni più moderni, ricordiamo che faceva parte della grande colonna sonora di un grandissimo film appunto, che era Hot Stuff.